Forgo a nome del Consiglio Direttivo dell'Associazione Lipizer un augurio di buon lavoro alla giuria e ai violinisti concorrenti. Con i tre appuntamenti di oggi si concludono le prove eliminatorie. Questa mattina si esibiranno tre violinisti. La prima è Ceyn Rui-Lin Verena, dalla Germania, di nazionalità tedesca, 22 anni. Eseguirà nell'ordine Mozart, concerto in sol maggiore KV-216, primo movimento e cadenza di Bayer. Bach, alemanda, double, corrente e double presto dalla prima partita in si minore. Lipizer, variazioni ad libitum, allegro sostenuto e allegro dalla tecnica superiore del violino. Sivori, studio capriccio numero 6 dall'opera 25. Sarà accompagnata al pianoforte da Inga Zenzel. Buon ascolto. Grazie. 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 Grazie.